Serve una guida e servono delle persone qualificate come noi che in qualche modo aiutino il cittadino soprattutto anche a non incurrere nelle varie frodi perché sappiamo che oggi purtroppo anche nelle categorie protette che escono dal mercato tutelato si verificano anche dei casi di frodi. Ecco noi aiutiamo queste persone, ovviamente il servizio è esteso anche a tutti i cittadini e alle imprese. Nasce così risparmio, energia e rezzo, uno sportello aperto al pubblico negli spazi della cazza dell'energia in vista della scadenza del prossimo 10 gennaio e il conseguente passaggio nel mercato libero del gas. Lo stop al mercato tutelato per la bolletta dell'elettricità invece è stato prorogato al primo luglio. Una guida ai cittadini e alle imprese su che cos'è la bolletta, come risparmiare ovviamente e sull'efficienza energetica. Il mercato libero del gas e dell'elettricità ormai è una realtà quindi dobbiamo concentrarci, dobbiamo orientarci in questo mercato e far sì appunto che i cittadini in qualche modo abbiano una guida e una consulenza. Questo è il posto giusto, insieme a Risparmio Energia riusciamo a fornire una serie di distributori, produttori e broker di energia ovviamente i più vantaggiosi sul mercato e nel periodo di 60 giorni abbiamo una serie di regali, una serie di offerte che verranno appunto elargite ai primi clienti dello sportello.